Digital Summit 2018, Capri, tre giorni dedicati all'innovazione e al digitale. Come Philip Morris abbraccia queste due grandi tematiche di cui si parla qui a Capri? Innovazione, digitale e competenze, stiamo facendo una rivoluzione all'interno della nostra industria, stiamo progettando un futuro senza fumo. La nostra rivoluzione per un mondo senza fumo passa attraverso un rinnovamento del portafoglio prodotti, da prodotti combusti a prodotti riscaldati. I prodotti riscaldati combinano la tradizionale competenza e tecnologia per fabbricare sigarette con l'elettronica. Nel momento in cui l'elettronica entra nella nostra piattaforma di prodotto, il mondo del digitale, il mondo della tecnologia e il mondo delle nuove competenze si impossessa anche del nostro settore. Il tema centrale di tutta questa rivoluzione è la competenza, sono gli uomini che devono gestire la transizione dal mondo vecchio della old economy al mondo della nuova economy e devono adeguarsi alle aspettative di un mondo futuro che ci porta milioni di innovazioni anche sul fronte delle professionalità che noi dobbiamo reinventare. E non solo noi, credo, non è un tema solo di Philip Morris, è un tema anche di contesto e di ecosistema, il reinventare le professionalità e le competenze vuole dire ridare sogni a un mondo di giovani che devono vedersi proiettati in un viaggio su Marte o in un viaggio su nuove industrie, nuovi settori merceologici, nuovi prodotti, nei quali loro sono il faber, il maker, che combinando competenza analogica e competenza digitale porta il mondo nell'industria 4.0 e ci riporta tra i grandi del mondo nel settore manifatturiero. Questo è quello in cui crede la mia azienda che ha investito in Italia perché crede nel paese e crede che il paese abbia le competenze per farcela. Rinnovamento di prodotto vuol dire anche rinnovamento di modi e modelli di produzione. Voi avete un nuovo stabilimento che è super innovativo a Bologna, ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo costruito per questa visione del mondo senza fumo uno stabilimento che lavora solo sui prodotti di frontiera della nostra industria. È un prodotto molto innovativo che a Bologna ha trovato un ecosistema, direi, molto importante, molto strutturato che ci permette di avere la competenza umana che ci serve e la formazione di risorse che guardano al futuro con la capacità di realizzare questi nuovi prodotti e tecnologia di cui la nostra regione è ricchissima e che di fatto costituisce il 70% della supply chain di un'industria nuova che da Bologna esporta verso il mondo e punta a conquistare il mondo del fumo e a spugnarlo con dei prodotti più sostenibili.